Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! No, in 5 ragazzi! 15 più 18 52 Eh si si 15 più 18 52 No, no, guardare! 52 Non lo so, 15 e 30 53 53 14 56 57 58 58 59 GITTI BDI è proprio qui che Alex visto erottare il Vesuvio proprio qui in questa zona a mergellina lo vediamo qui con i capelli fatti non per la mente non per la mente amici dove dà volevo andare ad aiuto mezzo a caldissimo gioco gioco una volta che conoscete una persona comunque io hanno discorso anche lei poi ci deve stare non è detto che ci sta per forza ok trovate la vostra per una rosa trovate la vostra donna ideale ok faccio gesù christian intorno della cona questo è preso hanno cambiato la marca questo tipo di amare hanno cambiato la marca che si è diventata torno cona quindi è un torno cona dato suona male ma non mi rocco tg 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 t Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, ok. Oh, oh, hai visto la gamba? Oh, 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 oh. Hai visto la gamba? Rishu, vieni qua, Rishu. Non posso togliere la scena, ragazzo. Oh, oh, oh. Chi sei tu ora? Vediamo il zio. Oddio, oddio. Maronna, questo è un treno. Che guaio, il treno. E mo? E come giriamo qua? Una roba. Che daradella. È fattibile, è fattibile. Easy, easy. A massimo abbiamo perso la barca da là sopra. Preciso. Mamma mia. Qua sto al motore, cazzo. È mo? Il simbolismo quello era, è solo la pompa di benzina oppure meccanico? Oh, è per train. Il simbolismo quello era, cazzo. No, è. Rishu, vieni fuoco. Ma basta la! Angelo Altario. È una becatella. 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 Per me. Era come un fratello, GTA. Ogni sera lo giocavamo. Ogni sera lo portavamo. Ma va fa bocca a chi te è morto. Ma è fortuna che è morto. Ma chi te è stra morto. Ma è la puttana, mamma. Ma va la piglia in culo, va? Assafatti. Assafatti. Ah. Un applauso. Un applauso. Che voglia di cazzo, mamma mia. Ragazzi! Un rispetto. Vieni qua. Forza. Forza, vuoi? Vieni qua. Vieni qua. Forza! no no stai a posto stai a posto non so la scusa perchè stai in là un boi riccio riccio chiama due puttane no il suo nome no genaro sei live non sei live ragazzi è finita ma come vedi la voce in che senso? non fate alzare un po' la voce che non ti sentiamo adesso la sentite no porco dio è molto a posto la voce la voce ah con ventino ma che cazzo fai oh oh clipate un attimo questa cosa ci fa pannaccia faccia tipo ecco qua ah alex ma di scemo oh ma che sei tutto scemo io sto fuori ragazzo e io alex ma di scemo che cazzo fai io non di scemo oh a te una mezzoletta una mezzoletta una mezzoletta massimo ah si sono quelli live oh ma di scemo faccio tagliere fila piglia la foci faccio tagliere fila ma che cazzo faccio tagliere fila fammi uscire fammi uscire piccolo dico tagcio tagliere fila pò via decciptami fai i suoi figli dico se es mutato il non è no no vai secco no vai secco non faccio ci mida ande Normick growl la tua volta, si com'è? io posso c'è no dici una gizia? dici una gizia? no, no, lascia, non posso c'è vita è disturmato se ci rive è disturmato se ci rive